Mi chiamo Margherita, lui è mio marito Fabio, siamo sposati da sei anni. Nella vita di lavoro faccio la PR, ma mi diverto moltissimo a fare la food blogger. Così in compagno mi ha cambiato la vita, perché io in cucina non mi fido di nessuno. Di nessuno? Di nessuno. E quindi non lasciavo mai fare niente a nessun altro e dovevo fare sempre tutto io. Da quando c'è lui ho capito che comunque di qualcuno mi posso fidare. Sì, infatti qualcuno che non sono io. Diciamo invece che così in compagno per quanto mi riguarda mi ha cambiato la vita, nel senso che mi sono avvicinato un pochettino al mondo, diciamo alla cucina, ma non in senso solo pratico, cioè a mangiare quello che cucinava lei, ma anche a cercare di fare dei piatti. Infatti lo uso principalmente per fare dei primi piatti. E quindi adesso non si apre più le scatole di tonno quando è da solo a casa. Esatto. Le ricette che preferisco preparare sono le zuppe, perché io ne mangerei tutte le sere, sia d'estate che d'inverno. E siccome occorre parecchio tempo per stare dietro a queste preparazioni, mi fa molto gioco il fatto che lui si possa occupare di tutto mentre faccio qualcos'altro. Cuisine Companion è il mio sous chef, perché gli posso affidare qualsiasi tipo di compito in cucina. Non pelare le patate, ma comunque tutto il resto lo sa fare. Anche perché per pelare le patate ci sono io. So,